In calo del prezzo dell'energia elettrica potrebbe avere conseguenze pesanti sui bilanci di Lomellina Energia, la società che gestisce il termovalorizzatore di Parona, dato emerso durante l'ultima riunione della Commissione Inceneritore. In calo di richiesta del settore produttivo ha portato a un crollo del prezzo e l'energia prodotta a Parona sarebbe stata venduta con picchi anche del 50% in meno rispetto alle cifre abituali. In tutto in un periodo dove l'inceneritore ha dovuto operare adeguandosi al cambio della tipologia dei rifiuti che venivano conferiti, in particolare per il forte aumento dei rifiuti ospedalieri prodotti durante il picco dell'emergenza Covid. D'incontro la buona notizia è che i dati ambientali hanno registrato per lo stesso periodo una diminuzione dei valori degli NOx che erano ormai arrivati stabilmente al limite massimo imposto dalla legge. Nel corso della riunione della Commissione si è anche parlato del progetto di essiccare fanghi nell'impianto di Parona per il quale si terrà una nuova conferenza dei servizi prossimo 18 agosto. Le previsioni indicano che con tutta probabilità l'operazione andrà in porto visto che sussisterebbero tutti i presupposti per completare l'iter autorizzativo. In WWF con una lettera firmata dal presidente della sezione Lodigiano Pavese Fabrizio Varese si è detto assolutamente contrario mettendo in guardia dalla forte tossicità di fumi e ceneri derivanti dall'incenerimento degli stessi fanghi che avverrebbe sempre nell'impianto di Parona. Contrario pure consigliere di minoranza Renato Soffritti quale sottolinea come dall'assicazione di rifiuti possano derivare oltre a problemi ambientali cattivi odori e mosche come già successo quando nel termo valorizzatore si trattava il compost. Soffritti chiede che almeno per rendere tutto ambientalmente un po' più sostenibile venga attivato insieme all'assicazione dei fanghi un procedimento per il recupero del fosforo elemento sempre più ricercato in agricoltura. A2A sta costruendo impianti sperimentali con il recupero del fosforo altrove denuncia il consigliere qui probabilmente non serve perché ci meritiamo quello che ci sta capitando e il prezzo in salute non può che essere alto.